Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane lui ed egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale egli è, tale siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, dai versetti 15 a 18. Grazie a tutti.